E in questo video, visto che questa settimana il bar sport l'ho fatto tutto spaccato, continuiamo a farli spaccati. Voglio parlare di due facce, del Milan e dell'Inter. Ma prima, sigla! Milan che questa settimana vince, vince in casa del Palermo per 2-1. Alcuni tifosi del Palermo, uno in particolare sulla pagina Facebook, insisteva sul fatto che il Palermo non meritasse la sconfitta. Allora, io capisco che avete giocato contro una squadra di molto superiore. Capisco che prendere gol a 5-1 dalla fine in quel modo, poi di la padula di tacco, cioè proprio la padula da casa, proprio non so se sei sparato in indovina per felicità, non possa far molto bene a un tifoso del Palermo ed è vero. Però ragazzi, io che ovviamente da romanista speravo che il Milan non prendesse tutti e tre punti. E poi, anche da simpatizzante del Palermo, visto che comunque siamo più o meno gemellati, io speravo assolutamente in una vittoria, un pareggio del Palermo. Però c'è da dire, per chi ha visto la partita, che è palese di come il Milan abbia giocato meglio, ma molto meglio del Palermo. Posavec per tre volte ha fatto un, cioè ne ha fatti tre, di miracoli clamorosi. E stiamo parlando di miracoli clamorosi, parate veramente fantastiche. Purtroppo il problema di Posavec è che fa delle parate della Madonna, però fa delle paperate reinose. Cioè ragazzi, Posavec ha fatto tre parate che, chi non le ha viste, io consiglio, scrivete Palermo-Milan, una, due highlights completi, scegliete il video un po' più lungo, 5-6 minuti, e vi vedete tutti gli highlights. Posavec ha fatto delle parate della Madonna, però il primo gol del Milan l'ha fatto Posavec. Una difesa imbarazzante, un portiere imbarazzante. Non c'ho nulla da dire, sinceramente. Cioè, un portiere imbarazzante in quel caso, perché per il resto non è che abbia fatto chissà che male. Cioè, è questo quello che dico. Ovviamente, mattatori della partita, non posso che dire Suso, peraltro l'ho anche all'altro fantacalcio, quindi grazie, grazie, grazie. A proposito, l'aggiornamento del fantacalcio esce presto, smettetelo di dire quando esce, esce presto. Suso fa tutto lui, fa il primo gol, poi fa tre tiri clamorosi, su cui Posavec gli ha detto. Prima gli ho fatto segnare, adesso te gli paro anche le bestemmie che mi diri verso la porta. Poi, nel finale, proprio Posavec, ehm, Posavec, proprio Suso ha tirato verso la porta e la padula l'ha deviata di tacco, mettendola alle spalle del portiere. Quindi, mattatore assoluto, Suso, senza alcun dubbio. Tutti hanno elogiato la padula per la prestazione fatta. La prestazione, ragazzi, parliamoci chiaro, non esiste importantissima la linea di la padula. Peraltro arriva al primo e unico tocco di la padula. Quindi, sì, molto buono che abbia segnato l'unico tocco che ha fatto della partita. Però, se fai un tocco, non puoi dire prestazione eccellente, puoi dire gol importante. Dividiamo le due cose. Paletta, che dopo il rientro dalla squalifica e dopo il momentaccio, dopo la sconfittaccia contro il Genoa, si è dimostrato il paletta di questa stagione. Ovvero, un paletta buonissimo, un paletta che sa difendere, un paletta che dà concretezza al comparto difensivo. Un paletta che se la gioca tranquillamente, che si gioca anche la maglia da nazionale tranquillamente. Poi sapete io come la penso, cioè, gli oriundi per me non dovrebbero venire nazionali. Però, però, se dobbiamo anche contare gli oriundi, paletta se la sta sudando e se la sta meritando. Avevamo già citato Posavec, quindi smettiamola di dire Posavec. Parliamo, diciamo due parole, su Nestorowski, che mi sta stupendo tantissimo, anche questa volta la butta dentro. Nestorowski, grandissimo giocatore, non me la... Cioè, in realtà, guarda, aspetta, me lo aspettavo perché... Vi racconto sta piccola chicca, così chiacchieriamo un po'. Questa estate io compravo tutti i giorni il Corriere, non perché io creda in quello che c'è scritto nel Corriere, però d'estate, senza calcio, mi metto lì a armare col Corriere e me leggo due stronzate. Che sia il Corriere o la Gazzetta, poi poco importa. Tanto alla fine, bene o male, prendo il Corriere perché parla più di Roma, dice stronzate, però campo de calcio, praticamente, so felice quando sento calcio, quindi mi piace. Mi piace leggere calcio, anche se so che saranno stronzate, quindi le prendo con le pinze. Arriviamo però al punto. Il punto è che un giorno il Corriere ha portato un'intervista di Nestorowski sulla Gazzetta, ha intervistato Nestorowski e io leggendo queste parole mi ero un po' stupito. Stupito perché ho detto, cazzo, cioè, era un ragazzo, ok, aveva 26 anni, quindi era anche abbastanza esperto, però era un ragazzo come se non avesse paura di affrontare la prestazione di Palermo. Era un ragazzo sicuro di sé, un ragazzo con la testa sulle spalle che però sapeva di potersela giocare tranquillamente e sta dimostrando parecchie cose. Ora, da quando l'ho visto, non è che ho detto, no, ragazzi, questo diventerà un fenomeno, però è come si è visto poi anche con Daniele Brogna quando abbiamo fatto l'assa del fantacalcio, gli mancava Giotto Re, poi non è che dovevo aiutarlo, però mi ha detto, chi prende? Ho detto, prendi tra tutte queste pipole, vuole la prende? Non mi ricordo che io gli ho detto, forse vuole la prende Madri. Gli ho detto, prendi Nestorowski che per me quest'anno fa bene. Lui mi ha creduto, l'ha preso a uno e adesso segna. Quindi ringraziami Dani, per favore. Comunque, a parte questo, Nestorowski molto buono, voglio fare i complimenti anche all'Ofaso che ha debuttato ieri, entra, ha mostrato anche una discreta sicurezza, ovviamente non è che il Palermo quest'anno proprio spicchi chissà in cosa, però comunque ha giocato abbastanza bene per quanto si è visto. Chiedo immediatamente scusa agli interisti se riservo solo un piccolo spicchietto, cioè meno tempo di quanto ho parlato del Milan, ma vi spiego subito, quando arriverà l'ufficialità, forse sarà già arrivata quando pubblicherò questo video, però quando arriverà l'ufficialità del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Pioli, però aspetto perché ieri era Marcellino Panevino, oggi è Pioli, quindi aspettiamo, parlerò dell'Inter in un video. Per ora mi limiterò a parlare della prestazione con il Crotone, l'Inter che fino a 5 minuti alla fine non riusciva a sbloccarla, vabbè 5 minuti per dire, cioè fino a quasi alla fine non riusciva a sbloccarla, poi è riuscito a sbloccarla e ha preso il largo. Icardi migliore in campo, senza alcun dubbio, propizia il primo gol e ne fa altri due, praticamente la decide lui, ovviamente migliore in campo Icardi. Contro il Crotone mi aspettavo tutt'altra Inter, invece ha faticato come le bestie. Per quanto riguarda invece qualche flop, direi praticamente tutta la difesa, tranne Miranda che ha traballato non poco. Poi Joe Mario, Joe Mario a sorpresa, forse è probabilmente il peggiore in campo della giornata, ha smarrito le sue geometrie, non riusciva ad incidere in nessun modo, ovviamente non sto bocciando Joe Mario che ha fatto una partenza assurda, però ora sta un po' rallentando, un po' frenando, però in questo momentaccio probabilmente ci può stare. Il Crotone invece voglio fare i complimenti a Cordaz, che nonostante non lo reputo un gran portiere da Serie A, sta dimostrando parecchie cose, anche contro l'Inter si ha preso Dregomane, ha parato altri tre palloni indirizzati in rete, quindi ovviamente bisogna fargli gli applausi. Poi ragazzi il Crotone è veramente una squadra da retrocessione, andrà in B senza alcun dubbio, cioè è proprio una squadra, ma mi dispiace per i difusi del Crotone, io la voglio pure bene. So contento di stare affrontando questa favola, però se dovete affrontarla così, in questo modo veramente, è quasi fastidioso, cioè è proprio un tracollo, avete presente un tracollo? Il problema è che il Crotone non è che sta fallendo, noi abbiamo visto squadre come il Parma che hanno fallito, Crotone non sta fallendo ragazzi, non si capisce che succede, non si capisce, boh, cioè in senso non si capisce perché non hanno allesito una squadra buona quest'estate, ok? Non c'avevano i soldi, ma anche, che so, il Pescara non aveva i soldi, eppure è riuscito a prendere qualche giocatore in prestito, comunque poi farò un video sul Crotone, ve lo giuro farò un video sul Crotone, per i difusi del Crotone che mi seguono, quindi state tranquilli, farò un video anche che parla della zona retrocessione, poi farò un video anche per, se non è già uscito, Torino e Atalanta, Atalanta in questo momento le due più belle sorprese del campionato, per quanto riguarda la Fiorentina non ho voglia di parlare, perché tanto sono sempre le stesse cose che dico, Sosa non mi piace, avete una buona squadra ma tanto senza trovare la quadra non andrete da nessuna parte, mi dispiace per voi, la squadra è messa male in campo, le fiste del mister, De Maio non vede mai il campo, sempre la solita roba, basta, basta, finché non smuoveranno qualcosa da qualche parte lì, c'è poco da dire, detto questo ragazzi vi ringrazio per la visione, ovviamente se il video su Inter e Mina vi è piaciuto lasciate un mi piace, se invece vi ha fatto cagare un dislike, io vi ringrazio ancora una volta per la visione, buccia dalla e ci vediamo ad un prossimo video, ehi ehi ehi, non chiudete il video, devo dirvi una cosa molto importante prima, visto che i feed di Youtube non vanno benone, vi consiglio appunto uno di cliccare sulla campanella vicino al canale iscriviti, in modo che vi arrivino tutte le notifiche sul cellulare, seconda cosa, molto più semplice, andate a cercarmi su un gruppo Telegram, lì vi aggiornerò per ogni video che uscirà, vi metterò o il link o comunque la foto per farvi capire che è uscito un video, infine se vi interessa, vi trovate sia su Facebook che su Instagram, con continui aggiornamenti, ovviamente tutto sotto il nome di Sikwolf, su Instagram Simone Sikwolf, mi raccomando ragazzi, fatelo eh, fatelo!